Non potete capire chi ho incontrato al Motor Show, eh? Ve le faccio vedere. Pa, 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 pa. Ciao! Oh, chi sono queste belle ragazze? Costanza. Io sono Costanza, tu sei Brian di 905. E te, te, io sono Brian. E c'è Benedetta, ciao ragazzi. Allora, come state ragazze? Benissimo, abbiamo appena fatto rally. Stupendo, adrenalina che ho stato. Io non l'ho neanche fatto, cioè, la faccio addosso soltanto al pensiero. Com'è andata? No, meraviglioso, oggi è domenica, eravamo super rilassati. Diciamo che è stata una bella sberla, ci siamo svegliate, ma ci siamo divertite tantissimo. Pensate che sberle che ho io al mio fianco, sono emozionatissimo. Allora ragazzi, questa cosa mai fatta nella storia del mondo. Siete pronte per invitare i nostri amici a venire qua al Motor Show? Bacio, super, al 3, guancia guancia, io sarò proprio più felice della mia vita. Siete pronte? Uno, due, tre. Wow! Oh, veramente l'hanno fatto. Venite al Motor Show! Ciao!